Ogni giorno tantissimi casi di violenza non vengono denunciati, anche quelli più gravi, che potrebbero avere conseguenze tragiche. Uscire dal ciclo della violenza si può, sei tu a scegliere. Non temere di fare il primo passo per mettere fine alla sofferenza. Parlane con qualcuno di cui ti fimi. È la cosa più importante da fare. Rivolgiti ai carabinieri con fiducia. Nelle nostre caserme troverai personale qualificato che saprà ascoltarti, comprenderti e farti sentire al sicuro. Oggi la legge prevede nuove possibilità di accoglienza e di supporto, contributi psicologici, legali, economici e lavorativi per le vittime di violenza e per i familiari. Gli strumenti per iniziare una nuova vita, libera da coercizioni ci sono. L'importante è sapere come utilizzarli. Noi possiamo aiutarti. Ricorda, chi ti ama veramente ti fa sentire libera. Grazie. Grazie.